Benvenuti, benvenuti in questo oroscopo per il 2025. Andremo a vedere il nuovo anno, cosa ci riserva, cosa ci promette. Lo faremo ovviamente con l'astrologia, ma non mancherò di interrogare anche i miei tarocchi e tutte le altre carte. Vedremo il cielo dell'anno 2025, che è un cielo roba da pazzi. Ci sono cambiamenti proprio di posizioni di molti pianeti lenti che sono molto importanti. Ok, quindi vedremo un po' il cielo del 2025, dopodiché andremo a vedere il tuo segno zodiacale nello specifico. Allora, l'anno 2025 vede tantissimi cambiamenti, qui mi sono appuntata a quelli più importanti. Tutti i pianeti lenti, pianeti cioè da Giove in avanti, cambieranno tutti praticamente segno zodiacale. Giove, Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Se contiamo che Plutone è appena entrato, anche lui in acquario ha appena cambiato segno, tu mi capisci, tutti i pianeti lenti. Perché parlo di pianeti lenti? Non li guardo neanche Marte, Venere, li vedremo poi nei mesi, mensilmente. Perché sì, ti possono cambiare l'umore per quei venti giorni, ma questi ti cambiano la vita. I pianeti lenti cambiano le generazioni. Sono pianeti che entrano in un segno e ci stanno minimo due, tre, dieci anni, vent'anni, sette anni. Cioè, tu capisci, cominciano ad essere movimenti importanti che si sentono, che portano grandi cambiamenti. Dunque, dicevamo, qui c'è tutto un susseguirsi. Dalla primavera, quindi fra aprile e luglio, c'è uno spostamento d'aria allucinante. Allora, si parte con il 31 di marzo, quindi vabbè, diciamo aprile. Comunque, il 31 di marzo, Nettuno, ok, il dio del mare, che dal segno dei pesci in cui c'è stato decenni, passa nel segno focoso, bello istintivo, bello guerrigliero dell'ariete. Stessa cosa farà poi Saturno, gli va dietro, perché Nettuno e Saturno stanno camminando a braccetto nei pesci, ok? E entreranno, passeranno insieme, quindi, dai pesci all'ariete, perché Saturno, giorno 25 maggio, quindi subito dopo Nettuno, anche Saturno passerà in ariete. 25 maggio. Poi si passa al 9 giugno, che Giove, dai gemelli, entra nel segno del cancro. Quindi, beato cancro che tu avrai questa manna dai cielo, ma ora lo vedremo, non solo il cancro, ovviamente. Quindi il 9 giugno e il 7 luglio, Urano che lascia i gemelli ed entra, scusami, che lascia il toro ed entra nel segno dei gemelli. Salvo poi, che mi sono già appuntata, nell'autunno, inverno, insomma, torneranno indietro in modo retrogrado, quindi Nettuno rientrerà nei pesci alla fine di ottobre, Saturno, anche lui, rientrerà nei pesci il primo di settembre, e Urano rientrerà in toro a fine anno, verso il 9 di novembre. Ma avremo modo di vedere tutti questi transiti. Quindi tu mi capisci? Qui c'è un cielo che cambia completamente. Allora, se vogliamo innanzitutto vedere questo Giove, il pianeta della fortuna, del benessere, effettivamente non stravolge la vita Giove, però se la giusta, sinceramente. Capito? Ha maggior ragione se tu sei un segno zodiacale, e ora andremo a vedere il tuo segno zodiacale, che magari è maleficiato, non so, da una quadratura di Saturno. Se tu hai Saturno quadrato, ma tu hai Giove e ti sostiene, poi Gebùa fa pari. Insomma, va visto un po' tutto nel tema Natale. Ok? Ti raccomando, guardati, il tuo segno zodiacale e l'ascendente come minimo, come minimo questi due segni. Se poi tu lo conosci, anche la luna. Va bene? Se tu conosci Venere, guarda, fa anche Venere. Ancora meglio. Ma insomma, il minimo sono il segno e l'ascendente. Detto questo, quindi Giove in cancro, quindi segni come la Vergine, si sente riavere, va bene? Con Giove in cancro si sente riavere, anche perché è martellata dall'opposizione di Saturno e Nettuno. Quindi una Vergine, sicuramente, anche perché poi appunto Saturno e Nettuno termineranno l'opposizione dai pesci, quindi una Vergine comincia a respirare nuovamente. Ok? Poi mi viene da pensare, per esempio, ma lo vedremo adesso, a un toro, anche il toro con questo bel giovane in sé stile, sicuramente si sentirà, si sentirà di avere uno scorpione anche, uno scorpione con un bel trigono di Giove, e via dicendo. Ma qui ci sono quasi tutti i segni zodiacali che verranno chiamati in causa, che vedranno dei cambiamenti di scenario nella propria vita importantissimi, perché sono i pianeti lenti che si muovono. La Venere, Marte, la Lune, cioè, sì, ti possono portare a quei 15 giorni, 20 giorni di giramento, ma chi ti cambia la vita sono questi. Cioè, non so se mi spiego. Detto questo, quindi, sicuramente qui l'aria cambia, situazioni magari finora rimaste un po' sotto pelle, parlo anche a livello mondiale, a livello generale, per la nostra vita in generale, poi vedremo il tuo segno adesso. Non so, io stavo guardando a questo Saturno e questo Nettuno dai pesci, entrambi insieme mi entrano in ariete, mi entrano in ariete, insieme. Quindi qui si passa da un segno, se vuoi, remissivo, calmo, tranquillo, che poi calmo, tranquillo, insomma, per modo di dire, ma insomma, diciamo calmo e tranquillo il pesci, no? È un segno acqua, l'acqua si adatta a tutto, lascia correre l'acqua. L'aria è un guerrigliero. Ora, io voglio di quello che penso, però l'ariete non è i pesci, quindi l'ariete passa all'attacco, l'ariete si muove, l'ariete fa, sbatte, fa, decide, parte, vuol comandare, vuol essere il primo, è un po' il leader. Quindi qui cambiamenti di scenari, sicuramente. Guarda, uno su tutti mi viene da pensare l'entrata in carico, diciamo l'entrata, come si dice, in carica, no in carico, del nuovo presidente degli Stati Uniti, che avevamo visto sarebbe stato Trump, cioè avevamo visto le mie carte, avevamo visto, non io. Ok? Quindi, già solo lì, ok? Ecco, ora non entriamo in tecnicismi troppo così. Comunque, io voglio tirare anche un paio di tarocchi generali per l'anno 2025 e poi andremo a vedere un po' tutto questo movimento, tutto questo ambarada, cosa significa per il tuo segno zodiacale. Per esempio, un urano che mi entra in gemelli, insomma, qui ci sono dei cambiamenti forti, per un leone, per una bilancia, per un gemelli stesso, per un ariese, per un acquario, può arrivare il lavoro, ci possono essere, insomma, ora lo vedremo. Il 2025, secondo il mio modestissimo parere, è un anno che ci se lo ricorderà tutti, chi per un verso, chi per un altro, perché cambiano proprio le colonne nel cielo, il cielo cambia proprio. Poi ci sono i pianetini più veloci, Marte, Venere, quindi insomma, il momento un pochino più bello, tosto, il momento un pochino più affettuoso, il momento in cui siamo più nervosi, il momento in cui invece si sentiremo meglio, vedremo l'amore dei nostri occhi, della nostra vita. Ma questi, questi sono importanti, questi stanno un anno, tre anni, sei anni, vent'anni, cioè, tu mi capisci. Andiamo a vedere. 2025, poi ragazzi, ogni mese, si vedrà questo anno, più nello specifico, ogni mese faccio l'oroscopo del mese, di ogni segno zodiacale e li studieremo più da vicino, va bene? Vediamo un po' in generale, questo 2025, come sarà? Ma, guarda come sarà, il matto con il 5 di bastoni, ah però, beh, allora, qui sicuramente siamo ancora in generale un po' per tutti noi, un 2025, come ti ho detto, che vedrà assolutamente tanti cambiamenti, novità, cose anche che si espandono, quindi ci saranno anche dei confini, secondo me cambierà anche la cartina geografica, ve lo posso dire, tanto mal ho detto, quindi sicuramente qui ci sono degli ampliamenti di confini, mettetelo alla vostra vita poi, quindi non so, un lavoro che vi aumenta, un lavoro che troverete se lo cercate, qui c'è un qualcosa di insolito, di nuovo, che entra nella nostra vita, quindi un po' per tutti, poi per chi andrà in un verso, per chi andrà in un altro, adesso lo vedremo, però, dei cambiamenti di scenario, dei cambiamenti su il lavoro, nella nostra vita, un qualcosa che aumenta, che si allarga, chi allargerà famiglia, per esempio, ci può essere chi fa famiglia nel 2025, chi apre una sua azienda, chi non l'apre, però la espande, chi trova lavoro, chi aumenterà il lavoro, aumenterà i fatturati, chi si innamora, chi deciderà di cambiare vita, fa fagotte e se ne va da qualche parte, magari all'estero, visto queste carte, e via dicendo, quindi qui dei cambiamenti belli, belli, importanti, e te credo, mi torna quello che diano, perché guarda qui, qui c'è proprio un cambiamento di scenario, in questo cielo, assurdo, allucinante, che succede tutti i giorni, e bambine, ve lo dio, comunque, detto questo, non mi dilungo troppo, andiamo a vedere, e ricordati di guardare il segno, l'ascendente e la luna, andiamo a vedere, il tuo segno zodiacale, Allora Sagittario, guarda, questo nuovo cielo per te, è meraviglioso, nel senso che, Saturno e Nettuno dall'Ariete, formeranno un trigono bellissimo, al tuo, al tuo sole, ora vedremo anche tutto il resto, però, ecco, diciamo che, allora, non varrà per tutti, per carità, ma io ci posso vedere, un vecchio amore che torna, un amore antico, vissuto in un certo modo, che si riapre, magari, semplicemente, si rinfiamma l'amore, con il tuo compagno, la tua compagna, io non è che voglio dire, capito, Sagittario, però, insomma, diciamo, ecco, qui ci sono delle cose, un vecchio sogno, che tu lo rispolveri, tu lo rimetti in pista, sai quando si dice, no, ho accantonato un attimo, questo sogno, avevo questo progetto, questo desiderio, però, per un motivo X o Y, l'ho dovuto accantonare, e adesso lo riprendo in mano, ecco, io un qualcosa di questo tipo, un qualcosa di questo tipo vedo, poi ci sono delle cose vecchie, che tu ti stavi portando dietro, che ti creavano, insomma, dei problemi, magari anche proprio familiari, che possono riguardare la famiglia, o la casa, anche queste termineranno, o comunque, cambieranno aspetto, diciamo che qui, la sua vita, riprende vigore, riprende slancio, riprende fuego, riprende passione, riprende vita, non so se mi sto spiegando, quindi ci potremmo dedicare, a degli hobby, come ti ho detto, potremmo riprendere in mano, un qualcosa, che avevamo invece accantonato, e via dicendo, altro passaggio molto bello per te, è la fine, il termine di questa opposizione, di Giove, perché i gemelli, sono opposti al tuo segno zodiacale, quindi, qualche frizione, qui questo Giove l'ha portato, io qui molto vedo la casa, il matrimonio, i conviventi, insomma, qualcuno, nel tuo menage familiare, insomma, magari ti ha fatto pesare, un qualcosina, poi dovremmo vedere il tema natale, ad ognuno di noi, ma non è qui il caso, tu lo saprà se, di che cosa ti sto parlando, ok? Quindi, anche queste cose, potrebbero un po' terminare, quello che ti posso dire, ci può anche essere, qualche sagittario, che deciderà, almeno, dalla seconda parte, del 2025 in poi, se è in crisi, se ce l'ha piene, se un ne può più, se c'è qualcosa, lì può prendere il coraggio, e dire, basta, tagliare, raus, via, ok? io cambio vita, voglio qualcosa di nuovo, voglio pensare per me, me ne vado, riprendo in mano i miei progetti, vado per la mia strada, ci sta, eh? Perché, ci dimentichiamo, il sagittario è un cavallo, il sagittario deve andare, non lo aiutare in una stanza, perché, con quei dizoccoli del cavallo, ti sfonda vetri, parte, lasciagli sempre la porta aperta, il sagittario mi raccomanda, a te. Comunque, qui c'è un qualcosa, che verrà deciso, nella seconda parte dell'anno, comunque, ripeto, già solo, la fine, il termine, dell'opposizione, di Giove dai Gemelli, e l'entrata di Saturno, e Nettuno, in ariete, segno di fuoco, come il tuo, ti creano, boom, cioè spettacolare, quindi sicuramente qui, si riprende, si riprende in mano, un qualche cosa, a partire anche, già fosse solo, questa decisione, di cui ti parlavo, ma, voglio vedere anche, le carte, cosa hanno da dirti, poi, come dico sempre, importantissimo, è l'ascendente, perché può attenuare, molto, quello che ti sto dicendo, per il tuo segno, vanno guardati, come il minimo, entrambi, va bene Sagittario, mi raccomando, allora Sagittario, anno 2025, del Sagittario, per l'anno 2025, Sagittario, come sarà, l'anno 2025, per il segno zodiacale, del Sagittario, ok, l'otto di bastoni, il 2, ma le vedi, no, tu le vedi, oh mamma, guardali, la regina, e il re di bastoni, la coppia, cioè, qui, stesso vestito, il re, la regina, di bastoni, qui c'è una coppia, in ballo, ok, qui vengono prese, delle belle decisioni, durante, sto 2025, ok, c'è un qualcosa, che senz'altro, tu riuscirai, ad, e vado ad aggiustare, un qualcosa che è pendente ad oggi, magari qui c'è una decisione, di un certo tipo, che deve venire presa, che magari abbiamo sentennato, che magari, mettiamole così, abbiamo sentennato, abbiamo, ecco, qui c'è una decisione, che viene presa, io ti vedo, vedi, qui c'è questa coppia, ora, devo dirti proprio la verità, qui, potresti essere te, con il tuo uomo, o te, con la tua donna, per l'amor di Dio, questa è una coppia, non ci piove, ok, ma, potresti essere te, uno di loro, ma potrebbe, semplicemente, essere veramente, una coppia, loro essere una coppia, con cui te, tu ti relazionerai, che avranno un peso, un'importanza, in una determinata decisione, per esempio, io qui posso vedere, per te, nel 2025, guardati, lascio in dente, guardati, bla bla bla, anche un'associazione, commerciale, con qualcuno, cioè, qui, tu ti potresti mettere, sagittario, capisco che non sia per tutti, per l'amor di Dio, io sto leggendo, il segno del sagittario, guardando qui, e guardando di qua, io posso vedere, come ti ho detto, questo qualcosa, che inizia, che parte, un progetto, che magari, un sogno, che ti avevi messo, da una parte, che ora si rispolvera, e potrebbe pure essere, una proposta lavorativa, ok, un'associazione, commerciale, cioè, mettersi insieme a qualcuno, per lavorare, non so come spiega, una società, potresti, istituire, si dice, si, fondare, istituire una società, con qualcuno, una società, per lavoro, ok, lavorare, fare un qualcosa, e lavoro con qualcuno, se non vogliamo vedere, guardare troppo, essere troppo ottimisti, vero Sagittario, qui, semplicemente, tu cerchi lavoro, il 2025, te lo porta, e anche pure alla grande, perché qui c'è anche, un bel contratto, ok, c'è anche un bel contratto, magari, ecco, qui tu puoi fare, un qualche cosa, anche con l'estero, io non so, se tu sei te, che tu ti muovi, o è semplicemente, il lavoro, che viene da fuori, capisci, che ti voglio dire, quindi, ecco, lavorare con una società, per una società, in una società, bla 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 bla, che ha a che fare, o proprio con il commercio, o se no con l'estero, o comunque con il lontano, o ancora con la comunicazione, insomma, qui posso parlare a tre giorni, andiamo avanti, io ti consiglio, I am safe, allora, qui c'è il segno del cancro, quindi potrebbe essere un segno, con cui, ci potremmo relazionare, in questo 2025, ma ancora, il cancro mi parla di nuovo, di famiglia, di nicchia familiare, va bene? Ora, l'unica cosa, che potrebbe darti, un po' fastidio, è un urano, che ti entra a gemelli, e ti ho detto, a cosa può portare, però, è un transito, che durerà sette anni, quindi lo dovremo vedere, man mano, che si svilupperà, insomma, qui fino a luglio, tu c'hai il campo libero, quindi io sfrutterei, pigerei sull'acceleratore lì, poi dopo, quando urano, entrerà nei gemelli, te l'ho detto, bene bene, male male, nel senso, tu potresti arrivare, ad una decisione, di un qualche tipo, il numero dieci, guarda, you have great leadership skills, quindi hai, delle grandi dose, da leader, ok? La sua mente, sveglia, e ti permette, di sognare, di progettare, idee ingegnose, e organizzare, tutto nei dettagli, e poi dirigere, gli altri, perché le possano fare, effettivamente, il re di bastoni, ma anche la regina, attenzione, può essere tutto questo, un leader, quindi, una persona, ecco, ora comanda, o mi garba, o mi garba, però un leader, diciamo, ecco, uno che organizza, ha delle idee, ingegnose, il progetto, di cui ti stavo parlato, no? Ecco, bla 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 bla, e puoi dirigere, e puoi dirigere gli altri, a fare quello che te, tu progetti, in altre parole, te tu sei la mente, e gli altri potrebbero fare, comunque, io ti vedo insieme, come minimo, ad un'altra persona, portare avanti, questo qualche cosa, va bene? Che sia sul lavoro, che sia famiglia, che sia con quello che ti pare, sagittario, anno 2025, perché qui ci sono, delle belle cose, qui c'è anche gente vecchia, che torna, vecchi progetti, vecchie persone, ok? Qualcosa di maturo, il nove, la compassione, è la sua compassione, che ti fa brillare, in mezzo agli altri, sei devoto, ad aiutare, ad aiutare, gli altri, e ne veste un talento, for speaking up for others, e hai un grande talento, insomma, sei uno, diciamo, che si alza a piedi, per aiutare, per difendere, i più deboli, in poche parole, la difesa dei più deboli, è speaking up for others, cioè, combattere, per gli altri, ok? La sua anima, è soddisfatta al massimo, quando, sei di aiuto al prossimo, ok? te lo confermo, anche da tutte queste carte, e qui ci fanno vedere, insomma, ok? Sono sicuro di me, penso di me cose positive, bla bla bla, la sicurezza in se stessi. Ora, io ti ripeto, continuo a vedere qui, non escludo, anche una coppia, che decide da andare, ora, non che mi parlino, di vivere insieme, però, capito, che decide di fare un qualche cosa, un qualche cosa insieme, questo 2025, non escludo viaggi, perché qui mi fanno vedere in lontano, quindi viaggi all'estero, o comunque viaggi lontano, ok? la superbia, la costanza, spero le vediate tutte, superbia, costanza, sagittario 2025, sagittario 2025, la lettera, quindi comunicazioni anche, arriveranno, e si vedono anche lì, dalle carte, figurati, ok, il cane, cioè la fedeltà, lettera, fedeltà, va bene? Oh, ho sentito, no, allora, andiamo, sagittario 2025, eh, vabbè, troppo, io ho, vabbè, una per favore, sagittario 2025, l'ultima carta, allora, superbia, costanza, lettera, fedeltà, e il gran signore, eh, e di nuovo, si ritorna a questo re, ok? Io qui continuo a vedere, o un amico, o comunque, un capo, perché qui, più che amico, diciamo, un capo amico, ecco, va bene? O tu sei te, o tu avrai a che fare con questo tizio, che ci aiuterà, cioè, qui c'è anche un aiuto, di un certo, di un certo tipo, capito, che ti voglio dire, e qui questo cavaliere di coppe splendido, che ci porta a una proposta, di un qualche tipo, un cambiamento positivo, di una situazione, capito, fammi vedere, oioi, oioi, vediamo, sagittario, anno, 2025, per il sagittario, vedi l'infortunio con Saturno, che, se ne va, la sfortuna, più che, Saturno, e però, qui poi c'è Giove, vedi, la sagittà, fra l'altro, Giove è pure il tuo governatore, e Giove, che adesso si sta dando fastidio, con questa opposizione, dai gemelli, terminerà dal 9 giugno, quando entrerà nel cancro, ed effettivamente, qui da Saturno, si fa, si va a Giove sole, ok, quindi, la fortuna, le cose che si risolvono, le cose che vanno bene, le cose che si aggiustano, e bla bla bla, queste sono carte bellissime, qui c'è anche un amico, comunque una persona, di vecchia data, che continuo a vedere, il vecchio che si rianima, che torna, vecchio progetto, un vecchio amico, un vecchio lavoro, si torna a fare, quello che facevamo, per esempio, capito, per esempio, ti ha sempre fatto, la sarta, ora sto inventando, ti ha sempre fatto, la sarta, ma negli ultimi anni, ti ha fatto, la benzinaia, tu ritorna a fare, la sarta, ecco, fammi capire, cosa intendo dire, oracoli dell'amore, vediamo cosa dicono, gli oracoli dell'amore, per il sagittario, voglio tutto, accidenti, sa di avere sbagliato, quindi, qualcuno, che senz'altro, potrebbe tornare, ricordati anche, i numeri, 9 e 10, poi potrebbero parlarmi, di ottobre, di settembre, settembre, ottobre, 9 e 10, così come, di altre cose, insomma, quello tu lo sai, sagittario, oi oi, vabbè, 240 miliardi di carte, qualcuno ha una cotta per te, e qui infatti, nuovi amori, passioni, la bellezza, vedi, le abbiamo viste, mancanza di fiducia, con qualcuno, si sa con chi, ma comunque, qualcosa di veramente, speciale, che accadrà, ma si vede, con questo cavaliere di coppe, quindi qui anche un nuovo amore, o magari se siete felicemente in coppia, per l'amor di Dio, semplicemente un periodo fortunato, un periodo felice, io ho i miei dubbi, che sia l'opera, che c'è Urano, di là, da metà, però, insomma, diciamo che qui c'è una cotta, c'è una passione, c'è un qualcosa di veramente, speciale, che il sagittario, si potrà vivere, nel 2025, quindi comunicazioni importanti, viaggi, lavoro, associazioni lavorative, ci potremmo mettere insieme a qualcuno, contratti lavorativi, insomma, mezz'ora che parlo, so bello spiegato, quindi, belle, 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 l'onigliosa ti raccomando, guardati l'ascendente, e la luna, se la conosci, il segno in cui hai la luna, guarda l'oroscopo, anche per quel segno lì, perché, insomma, sono i tre fondamenti, quindi sono troppo, troppo importanti, minimo anche l'ascendente, però, diciamo che qui, per il tuo segno zodiacale, ogni ben di Dio, facci sapere, buon anno, ciao, ciao,